On TV Ascolti, Sanremo Young e, Immaturi, Ascolti TV di venerdì 9 marzo 2018 Sanremo Young e, Immaturi, Ascolti TV di venerdì 9 marzo 2018 3,7 milioni di telespettatori per il Talent su Rai 1 2,8 milioni per l'ultima puntata della serie su Canale 5, Sanremo Young e, Immaturi, Ascolti TV di venerdì 9 marzo 2018 3,7 milioni di telespettatori per il Talent su Rai 1 2,8 milioni per l'ultima puntata della serie su Canale 5 Foto, i ragazzi di Sanremo Young e Credit, diritti d'autore Rai Rai 1, Sanremo Young, 3 milioni e 765 mila spettatori, 17,3% di share Canale 5, Immaturi la serie, 2 milioni e 879 mila spettatori, 11,9% di share Italia 1, Transporter, Extreme, 1 milione e 886 mila spettatori, 7,5% di share Rai 3, lo chiamavano Gig Robo, 1 milione e 624 mila spettatori, 6,5% di share Rete 4, Quarto Grado, 1 milione e 615 mila spettatori, 8,3% di share 9, Fratelli di Crozza, 1 milione e 293 mila spettatori, 5,1% di share Rai 2, Nemo Nessuno Escluso, 1 milione e 9 mila spettatori, 4,5% di share La 7, Propaganda Live, 803 mila spettatori, 4,1% di share TV 8, Dance Dance Dance, 198 mila spettatori, 0,8% di share